La collaborazione è nata proprio grazie al festival Radiosiazioni, a questo progetto, la cooperativa Cilento Solidale per il metodo di lavoro che ha quindi di attivare la comunità, di creare una rete sociale, una rete di relazioni che possa portare benessere e possa rendere partecipe la comunità rispetto a tematiche Se ne parla poco, però vista la risposta che c'è sul progetto c'è questa esigenza di realizzare delle azioni concrete per il coinvolgimento di questi pazienti Infatti, le persone in carico ai servizi e persone private segnalate che hanno sentito, si è sparsa la voce di questo progetto hanno deciso di aderire spontaneamente come volontari a questa iniziativa Sono stati tantissime, le persone coinvolte in totale sono circa 51 come volontari Queste sono le foto dei laboratori che sono in corso a Velia in questi giorni Angelo D'Angiolillo del gruppo archeologico Velino di grandissimo supporto La Giussi Rinaldi, ecco l'occasione anche per ringraziare la splendida collaborazione che la cooperativa Cilento Solidale ha con la fondazione La Casa di Anna Laura Con la quale condividiamo la stessa linea di lavoro e di intervento sul territorio Il festival Radiosiazioni nasce da un progetto Radiosiazioni Per cui il progetto è quello di attivare la comunità stessa o la persona che generalmente viene considerata come bisognosa, come persona da accudire L'idea è quella invece il metodo di lavoro che la cooperativa Cilento Solidale ha con la fondazione La Casa di Anna Laura E adesso sta avviando anche con il comune di Ascea e altre associazioni E' quello di trasformare invece la società stessa, metterla in condizione di considerare la persona bisognosa come invece una risorsa attiva per il territorio E' quello di trasformare il territorio